volete fare un percorso su asfalto partendo dall'aquila lontano dal traffico allora vi consiglio il tracciato dell'edizione zero della green fondo che si è tenuta a metà giugno e ha visto 500 persone pedalare su un percorso bellissimo nel verde dell'appennino tra la natura dei boschi, bordi storici e gli spettacolari panorami della bruce insomma posti da ricordare nonostante qualche salita da levare un po' il fiato non avevo mai stato in questa zona d'italia e me la sono proprio goduta non vedo l'ora di tornarci questi 70 km fanno parte del tracciato della ciclovia dell'appennino un itinerario cicloturistico che dalla Liguria porta fino alla Sicilia per un totale di 3.100 km e dove sono state installate da misura 44 colonnine per la manutenzione e la ricarica delle biciclette elettriche una bellissima iniziativa e una bellissima giornata che vi racconto meglio con un video online ora sul mio canale youtube